Io produco i capperi a 1180 gradini di altezza, qua le distanze si misurano in gradini, quindi sono a metà della quota dell'isola, circa 350 metri. Di diverso qua c'è la forza del paesaggio, la durezza dell'isola, è un posto veramente duro. Ma questo è il tuo percorso abituale di raccolta? Sì. Però è un posto vero, dove io mi sento realizzato pienamente, in qualche modo nutro la mia anima. E' un ambiente un po' stile, non ci sono servizi, non c'è l'acqua, non c'è la luce, utilizzo l'energia che proviene dal sole e dal vento, cerco di fare un'agricoltura estensiva, che rispetti l'ambiente, che lasci il paesaggio intatto. Ho scelto di fare questa agricoltura un po' itinerante, produco le mandorle a noto, il mandorle vino e olio a noto e qui produco invece il capperi e il finocchietto selvatico. a me piace moltissimo vivere la vita, spostarmi, conoscere persone. Quindi mi sento un isolano due volte, un isolano siciliano e un isolano alicudaro. Non l'hai mai assaggiato i miei capperi? No. No? No, no. Come questo? Das ist capper, das ist capperoni, grosse capperoni. Il capperon si conserva sotto sale, viene raccolto, poi si mette un po' di sale per farlo sudare. Una volta che mette il suo liquido si aggiunge sale fino a saturare il liquido e si girano il loro stesso liquido fino a quando i capperi si riassorbono questa salamoia e quindi alla fine il risultato finale sarà un cappero salato ma senza sale a vista. tomorrow perhaps, in un secolo, si rende lo stesso e si finisce. Ok. Quello che mi rende felice qui è mettermi forse un po' alla prova in un contesto così difficile. Così aveva i barcheroncini. Svegliarmi la mattina e vedere paesaggi indimenticabili e che possa attraverso il sapore trasferire anche un po' forse queste emozioni. Mi piacerebbe che le persone conoscessero questa realtà perché in fin dei conti la migliore certificazione è la conoscenza diretta della realtà produttiva. Per. 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 Sì